I just want you Non che migliore amico di Francesco Monte A svelare la novità è stato il settimanale SPI, mentre i diretti interessati non hanno ancora proferito parola O selfie, visto che sui profili di entrambi non ci sono foto insieme. Ma, secondo la rivista edita da Mondadori, Rebecca e Alessandro si frequenterebbero da un mese, da quando la giovane avrebbe lasciato il fidanzato storico Stefano per buttarsi tra le braccia di Basile Sembra che la ragazza, che di recente, vediamo spesso in tv in qualità di opinionista da Barbara Dulzo, abbia completamente perso la testa per il pugliese E pare che la differenza d'età tra i due, lei 19 anni, lui 33, non abbia minimamente intaccato il failing e l'intesa che si è venuta a creare in poche settimane Un'intesa che è andata oltre la guerra che Valerio Staffelli sta portando avanti contro Francesco Monte, e il Cannagate scoppiato all'isola dei famosi La storia tra Rebecca e Alessandro è tutt'altro che finzione. Semmai, un paradosso Lei, braccio destro del padre che quest'anno sta portando avanti la battaglia del Cannagate contro Monte, difeso nelle varie trasmissioni dall'amico Basine, si legge sul giornale di Gossip e Cronaca Rosa Sarà vero? Non resta che attendere conferme o eventuali smentite.Chi è Rebecca Staffelli, la figlia di Valerio Staffelli? Rebecca Staffelli è la figlia di Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia, e Matilde Zarcone, ex showgirl e valletta di Buona Domenica Becky, come la chiamano in famiglia, sogna di entrare nel mondo dello spettacolo, e da qualche tempo ha cominciato a muovere i primi passi in questo ambiente È entrata nel cast di Diretta Mercato, trasmissione sportiva in onda su 7 Gold, ed è diventata opinionista di Barbara Duzzo Che conosce la ragazza da piccolina Chi è Alessandro Basine, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, punto Alessandro Basine è invece un modello e imprenditore pugliese È diventato popolare nel 2015, quando ha preso parte a Uomini e Donne come corteggiatore di Rossella Intellicato Quest'ultima non ha scelto il ragazzo, perché ha lasciato in anticipo il trono dopo una furiosa lite con Tina Cipollari Subito dopo Alessandro si è consolato con Laura Molina, l'ex scelta di Gianmarco Valenza, ma la storia è durata solo qualche mese Grazie